Ho sentito una fitta dietro il ginocchio che non avevo mai sentito prima. Mi sono accasciato a terra, si avvicina Lorenzo Pellegrini e gli faccio... Mi sono spaccato tutto. Uno degli infortuni più gravi che può capitare a un calciatore d'élite. Io l'ho guardato alla televisione e ho visto la smorcia di dolore. Quando entri a fare parte di una vita di fede, ti stravolge la vita e è molto bello. Buongiorno! Dai, no, no, non si fa così. Oggi ho una buona notizia, mamma. Ho corso. Tra me e me mi dicevo, ma chi me lo fa fare? Ma perché? Basta, basta. Non è. Non è. Grazie a tutti.